Oggi presentazione di questo comitato pro Pietro Bartolo, l'Italia bella e senza paura ci tenete a sottolineare. Daniele Nuccio. Decisamente perché viviamo un momento molto particolare, molto rischioso per la storia del nostro paese, perché la narrazione che ci stanno dando dai più alti livelli, dai vertici dello Stato e dai ministeri, una narrazione, una voglia di speculare, sfruttare il disagio sociale, le paure della gente, per cui a questo bisogna rispondere col coraggio, però anche con le testimonianze di chi può in Europa portare, oltre che l'interesse di una comunità, un'idea diversa, perché oggi siamo chiamati a scegliere su quale tipo di Europa vogliamo costruire, se l'Europa che si rifà ai principi fondamentali, al manifesto di Ventotene, di Alterio Spinelli e tanti altri antifascisti, oppure rassegnarci alla chiusura, alla paura, all'idea delle frontiere, vediamo costruire sempre più muri, vediamo ministri che vanno a complimentarsi per l'elevazione di questi muri. Quando a poche miglia dalle nostre coste, invece, lo vediamo, questioni recentissime, da un lato 70 morti naufraghi perché scappano dalla guerra, e dall'altra la criminalizzazione di chi invece salva le vite, come i ragazzi dell'Amarionio, che abbiamo avuto il piacere di ospitare a Marsala, perché che se ne dica, i porti sono aperti, comunque non c'è una direttiva, non c'è qualcosa del Ministero che li chiuda. Però non è solo questo, perché dire che uno dei temi centrali di questa campagna elettorale ovviamente sarà la questione migratoria, ci pone però la necessità, per chi soprattutto fa politica nel territorio e in provincia, di capire il perché il nostro popolo spesso si fida di chi soffia sul fuoco, e cioè partire dalle periferie, capire il disagio reale della gente, perché io sono ancora convinto che il nostro popolo, la nostra gente, non è incline al razzismo, però vive un disagio, vive la povertà, e in questi casi può nascere e crescere qualcosa di pericoloso, per cui sono convinto che porteremo un grandissimo risultato su tutti i territori della provincia di Trapani.